Ragazzuoli se volete potete supportarmi su Fortnite nella apposita sezione supporto un creatore con il codice free trattino gaming con il 3 al posto della prima e e ogni vostro prossimo acquisto supporterà anche il mio canale. Tutto il ricavato verrà utilizzato per fare dei giveaway e dei contest in live sempre sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video ragazzuoli. Sono appena uscite le sfide della settimana 9, abbiamo già fatto la fase 1, balla tra 3 sculture di ghiaccio, adesso andiamo a fare la fase 2, balla tra 3 dinosauri. Come alzate ragazzuoli, invito a lasciare un mi piace se il video vi è utile per completare le sfide, iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram emiliano.mare e se volete potete anche supportarmi come creatore free trattino gaming. Ok ragazzuoli, dove si trovano i dinosauri? Beh questo è abbastanza facile in verità, seguendo il ponte sulla strada qua. E' veramente veramente molto molto semplice, abbiamo fortuna tra l'altro perché sono tutte le partite che faccio vicino alla linea del bus. Quindi ragazzuoli ci buttiamo subito, andiamo velocemente proprio nel punto interessato a fare la missione. Sentiamo di arrivare giù più velocemente possibile, c'è comunque gente ma se la fate in tempo questa missione, magari già la seconda o la terza trovate meno gente, quindi siete avvantaggiati da questo senso. Lo vedete c'è un triceratopo, un... non mi ricordo, è un dinosaurio, è un t-rex, non mi ricordo come si chiama questo. Comunque ragazzuoli detto questo, atterriamo e a questo punto, dance! Come faccio lo screen? Comunque ragazzuoli per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo la visione, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se vi è fatto, di condividere il video e fare un'altra persona, passate in tutti i link in descrizione, Facebook, Instagram e Telegram, ci vediamo tra pochissimo con una prossima sfida. Ciao a tutti ragazzi!